Io vorrei un momento insieme di ascolto e quindi in questo momento è la serata di così. Molto bella l'esperienza in cui noi siamo inizialmente rurani e come voi sapete io sono un figlio di contadini, quindi gioiscono a vedere che la campagna è subito, che la campagna cresce, che la campagna è valorizzata, che non si fa in un luogo come questo dentro la città, che fa in un luogo di campagna perché la campagna possa educare la città, questo è il messaggio che siamo lasciati, ecco allora vedo che già piove, già piove, già piove e si benedizia così. Un applauso! Grazie! Grazie.